Noi vogliamo portare avanti proprio l'idea che Carlo aveva avuto, riportare la filosofia in piazza mantenendo comunque i valori reali e profondi insomma che ha la filosofia. La tecnica è diventata un modo di produrre e un modo di essere della società nel suo insieme. E allora Eschilo si pone il problema, è più forte la tecnica o è più forte la natura? Noi abbiamo di fronte a noi un futuro in cui le macchine, gli algoritmi, le intelligenze artificiali saranno sempre più presenti. Gli organismi hanno volontà di potenza, hanno degli obiettivi, hanno delle urgenze, cosa che i meccanismi non hanno. La nostra idea di tecnica è ancora faustiana ma la nostra società, le forme della nostra convivenza in Occidente, in Europa in particolare ma anche negli Stati Uniti non ha più niente a che fare con il faustismo. Grazie. 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 Grazie.